Ecco, queste sono le borse di studio che noi abbiamo preparato simbolicamente e che noi andremo a dare appunto ai ragazzi, questi sono i primi premi, l'università, Diodoro Cocco, tre premi dell'università, eccoli qua, e poi abbiamo anche quella di Diodoro Cocco, dell'associazione, cioè riceveranno in modo virtuale questo, però poi sul punto corrente lo riceveranno realmente, e quindi questi saranno un po' il nostro, diciamo, modo di comunicare la vittoria, virtualmente, ma ormai ci crediamo, funziona, lavorare virtualmente se si usa bene il computer, se si usa bene la rete, funziona, funziona e le cose vanno avanti. Appuntamento dunque a giorno 8? Giorno 8 alle 15 e 30, sempre sulla piattaforma, a Vever Sisco. E ricordiamo ancora una volta ai nostri telespettatori che cosa accadrà, ci sarà la consegna sicuramente di queste borse, in funzione di che cosa, di un tema che loro hanno svolto? Sì, di un saggio che loro devono fare rielaborando gli incontri che hanno ascoltato e dando poi quella che è la loro opinione sul concetto di responsabilità.